Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeone, la trasmissione magistrale di Paganesimo, qui sono insieme a Francesco e a Rosanna, presidente del comitato del comitato per referendum sul sì all'abrogazione della legge. Naturalmente siamo i microfoni a Rosanna, io ho due cosette prima di tutto quanto, ricordo che sabato 14 maggio alle ore 20.30 qui in sala dibattiti di Radio Gama 5, terò il dibattito di stregoneria relativo al crogiolo dello stregone e parleremo dello scetticismo, pertanto parleremo dello scetticismo alle ore 20.30 di sabato 14 maggio. Per sabato 18 giugno pomeriggio inizieremo a preparare per il rito dell'equinozio d'estate presso il bosco sacro di Jesolo. Se qualcuno arriva un pochetto prima ad aiutarmi a portare anche la legna mi fa anche un piacere, se no come tutti gli anni la porterò da solo, non c'è problemi. Anche perché ricordate che quest'anno dopo il rito di solito ci fermiamo in estate a mangiare all'aperto, per cui c'è anche da preparare i tavoli e tutto quello che resta. Francesco! Arriviamo un po' di prima quest'anno? Come solito. Ah bene dai, ne parleremo con calma al prossimo episodio. Va bene, allora Rito penso... Eh? Rosanna adesso che... Sì adesso lascerò la parola. Siete molto simpatici, però veramente a questo punto un argomento così delicato, così importante per parlarne di una trasmissione così? Ma questa allora, questa qua è una delle trasmissioni più importanti che ci siano in assoluto, in quanto questa trasmissione che è iniziata dieci anni fa da questi microfoni da radio, ha la pretesa di ricostruire il sentimento religioso delle antiche religioni, cioè sia dell'antica Roma sia dell'antica Grecia, riportando chiaramente il mondo d'oggi e di analizzare tutto ciò che nel sistema sociale funziona o non funziona. I percorsi di stregoneria io lo so che ti lasciano perplessa, ma in realtà le persone non conoscono che cos'è la stregoneria, ma preferiscono semplicemente la dicitura normale, cioè loro si pensano ai mai, ai fattucchiere, ai riti, alle orge, ai tarocchi, in realtà non è così. La stregoneria è l'arte per attrezzarsi, per vivere nella vita quotidiana. L'uomo attrezzato è l'uomo che si dà gli strumenti, strumenti etici, strumenti morali, strumenti con cui guardare le condizioni della vita e che ritiene che il mondo in cui vive è sacro, cioè è un mondo vivente fatto di oggetti pensanti, intelligenti, con cui deve misurarsi. La stregoneria ritiene che l'uomo fa parte della vita e fa parte dell'insieme, a differenza del cristianesimo che ritiene che l'uomo è un oggetto di possesso, è posseduto dal Dio e il Dio determina cosa l'uomo deve fare. La legge della produzione assistita è una legge cristiana o cattolica, noi abbiamo appoggiato questo referendum perché questo referendum produce degli input, degli elementi che sono propri dell'antico paganesimo, cioè l'uomo che è padrone di se stesso e che determina la propria esistenza. Quando l'inquisizione pulsava le streghe... No, no, ma ecco, io appartengo a quella generazione che erano, venivo dal mondo del femminista, pertanto eravamo le streghe, allora mi trovo un po' così. Tu appartieni alla mia generazione, io negli anni 70, quando ho fatto partire, ho contribuito a far partire lotta femminista anche a Padova e ho contribuito in maniera pesantissima a far partire quelle lotte per condizioni mie personali, se hai memoria storica saprai anche perché, dal cognome, e lo so, la memoria storica di solito si perde, è per questo che si dimenticano anche i principi fondamentali della vita. Aveva un certo tipo di valore, cioè aveva un certo tipo di ottica che era quella della libertà dell'uomo, cioè quella della libertà rispetto ai principi morali che erano imposti. Allora, riappropriarsi di quello che è la propria vita, il proprio corpo, il proprio modo di vedere le condizioni dell'esistenza è stato un principio importante, apparteneva a quegli anni. Ecco, c'è, diciamo, allora entriamo subito nel merito dell'argomento che dovrei trattare stasera. C'è in qualche modo un collegamento, se si può dire, perché per noi oggi inizia con la campagna referendaria, fra un mese andremo a votare il 12 e il 13 giugno, inizia una battaglia di civiltà nel rispetto della libertà delle persone, della libertà di scelta delle persone. Pertanto noi la paragoniamo a le due grandi battagli civili che abbiamo vissuto negli anni 70 per quanto riguarda il divorzio, il referendum sul divorzio e successivamente quella sull'aborto, negli anni 80. Ecco, 82, 74 divorzio. Allora, per noi questa è una battaglia civile come sono state le altre due. È una battaglia civile perché l'argomento che trattiamo, cioè la procreazione medicalmente assistita o la fecondazione medicalmente assistita, è un argomento che va a toccare l'intimo delle persone, che è un argomento che tocca la coppia, l'uomo, la donna e le persone. Dunque, se vi ricordate alcune questioni di chi la pensava diversamente sulla questione del divorzio e dell'aborto, in qualche modo sono le stesse che emergono oggi. Alcune parole d'ordine hanno una similitudine, sono molto simili a quelle che oggi si sentono da chi è contra, o meglio, da chi vota... No, noi invece siamo per votare sì il 12 e il 13 giugno, perché col votare sì chiediamo l'abrogazione di divieti che sono per noi inaccettabili e che limitano la libertà di scelta delle persone, come dicevo prima. Allora, c'è questo collegamento con quelle due grandi battaglie civili e la speranza è proprio, no, la speranza, noi ne abbiamo la certezza che l'esito dei referendum, proprio perché trattano trasversalmente a partiti, diciamo, trattano trasversalmente a tutto, saranno argomenti che supereranno i limiti delle ideologie e delle... Lo sappiamo. Penso che sia importante. Cioè, al di là dei schemi, delle ideologie dei partiti, le persone sono toccate, ognuno singolarmente è toccato. Ogni volta che si è trattato di questo, lo hanno dimostrato quelle grandi battaglie civili, i cittadini, la società italiana ha risposto, e ha risposto sempre in modo molto corretto e molto puntuale. Al di là delle previsioni che qualcuno faceva. Sì, anche in quegli tempi si parlava che la società non era pronta ad accettare quelle condizioni che venivano dette. E Fanfani sparì dalla scena politica. E invece la società italiana, anche in quegli anni, aveva capito di cosa si stava parlando. Anche oggi, anche se l'argomento è così particolare e tocca, diciamo, alcune persone, non tocca tutte le persone, è un argomento che, se spiegato bene e data la dovuta e corretta informazione sul tema, creerà veramente, da questo punto di vista, un grande movimento. Lo è stato già con la raccolta delle firme. Noi che abbiamo partecipato, il Comitato Nasce con la raccolta delle firme l'anno scorso, abbiamo raccolto a Padova 7.000 firme. Nessuna mai proposta di referendum o proposta di legge ha visto un'adesione così forte, così importante. Noi dai microfi della nostra trasmissione abbiamo sempre invitato ad andare a firmare. Grazie. Come invitiamo a non firmare per la Chiesa Cattolica l'8 per 1.000, mi raccomando, sui 7.40, firmate per lo Stato, mi raccomando. Io voglio ricordare che noi abbiamo conceduto dal dibattito parlamentare a trattare la frequentazione assistita, proprio perché erano venute fuori delle cose che erano atroci, soprattutto sul discorso, sai, sia dal punto di vista della fisica, con il discorso, sai, degli ovociti, solo tre, e il discorso dell'impianto obbligatorio, che era una cosa atroce, da roba da inquisizione, perché l'impianto obbligatorio, senza l'analisi degli ovoli, era veramente terrificante. Sì, infatti. Ecco, a chi lancia gli appelli per l'assenteismo al voto, dobbiamo dire solo una cosa, che vogliono impedire l'esercizio della sovranità popolare, secondo noi per un timore, il timore di perdere una battaglia ideologica, come dicevo prima, che non corrisponde più al pensare, al sentire della società italiana. Pensiamo dunque che va contrastato questa idea di fare qualcos'altro, il 12 e il 13 giugno. Il 12 e il 13 giugno si deve fare un atto d'amore per la vita e si deve andare a votare. Questo, secondo me, è l'aspetto più importante che dovremmo in qualche modo sottolineare. Ecco, l'informazione. Io vi ringrazio di darci questo spazio e speriamo di averne altri e siamo molto attenti, molto disponibili ad avere questi spazi, dalle televisioni alle radio, perché l'informazione è quella che manca ed è sull'informazione che non si capisce bene o si strumentalizza meglio la posizione dei sì. Noi diciamo che questa legge è una legge che va modificata e per modificarla bisogna andare a votare e abrogare i quattro articoli che sono articoli che pongono dei divieti. pertanto abrogare quegli articoli vuol dire lasciare una regolamentazione legislativa, pertanto non siamo per togliere tutte le regole, chiaro? Noi riteniamo che le regole ci devono essere, c'erano anche prima della legge 40. Le regole umane, fatte dalla società, fatte dagli individui. Allora c'era prima anche della legge 40 delle regole. Il codice deontologico medico stabiliva già alcuni vincoli, tra cui l'analisi preimpianto, già il codice deontologico stabiliva che doveva essere fatta solo con comprovate prove di problemi genetici. Già prima c'erano le regole che vietavano la fecondazione medicalmente assistita a donne sole o a donne che non erano più in coppia, insomma, dove c'era utilizzando i gametti del marito morto o separato. Allora c'erano già delle regole, si è voluto fare una legge e lo ripeto, noi siamo per le regole, non siamo per le non regole. Questa legge noi la consideriamo crudele e inaccettabile e ingiusta perché non mette delle regole, mette solo dei divieti e fa sì che i cittadini, donne e uomini di questo nostro paese non abbiano più la libertà di scegliere, di scegliere di nascere o di procreare. Noi viettiamo, o meglio, questo Parlamento con il voto di questa legge ha vietato la nascita di nuove persone. Ma soprattutto ha imposto la violenza perché l'impianto obbligatorio è violenza. Ecco, allora entriamo, tu lo stai già ripetendo da due volte, entriamo nel merito, allora due dati per dare, diciamo, dare un'idea del fenomeno. Allora, in Italia il 20% delle coppie ha problemi di sterilità. 65.000 nuove coppie all'anno si apprestano alla procreazione medicalmente assistita per problemi di sterilità. Questi sono dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, naturalmente, perché in questo periodo i dati vengono dati da tutte le parti. E' bene che lo sottolineiamo, noi abbiamo estratto questi dati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Allora, in Italia si eseguono 300, o meglio, si eseguivano, perché oggi le cose sono molto cambiate, si eseguivano 300.000 cicli di fecondazione assistita ogni anno. I divieti che vi dicevo riguardano cosa? Oggi le coppie sono costrette per fare, per praticare questa procedura, sono costrette ad andare all'estero, perché in Italia solo la coppia che ha una scarsa o ridotta fertilità può ricorrere alla procreazione medicalmente assistita. E' stata con questa legge vietata la fecondazione assistita alle coppie in cui uno dei partner è sterile. E qui ci colleghiamo alla procreazione eterologa. Chi è sterile? ha bisogno per forza di un donatore, sia maschio che femmina. Allora, il donatore, questa è una procedura, anche se il termine è un po' errato, ma comunque la fecondazione eterologa è una procedura che ha origini molto antiche. Diciamo che prima della scienza, prima che la scienza aiutasse queste coppie, se c'era un legame forte, alle volte si sceglieva non solo di andare all'estero a fare la fecondazione, ma prima della scienza si decideva scelte anche difficili. Quello anche di trovare un partner diverso. Mettendo ovviamente in crisi la coppia. oggi abbiamo la scienza che ci ha dato una mano, abbiamo la possibilità di rendere felici delle coppie che vogliono avere dei figli e che hanno questo problema. Oggi in Italia è vietato. Non possono più farlo. Una legge dello Stato vieta la felicità di persone che hanno dei problemi come la sterilità. Se uno dei due è sterile, si preferisce che rimanga in questo Stato o comunque in sofferenza, molto spesso questo è causa di separazione, perché lo dobbiamo dire, la sofferenza non è solo per questo, ma è anche causa di sofferenza. Allora, quando la scienza aiuta ad essere felici, aiuta una qualità di vita migliore, io dico benvenga la scienza. Di solito però quando parliamo di questo argomento dobbiamo sempre anche capire le ragioni di chi dice, ma potrebbero adottare dei figli. In Italia non c'è il divieto di adozione. La coppia preparata, noi sappiamo che per l'adozione ci vuole un percorso particolare. Le coppie che decidono di fare delle adozioni oggi in Italia lo possono fare. Anche lì è un interlungo, però lo possono fare. Non c'è nessun divieto. Oggi invece si divieta, viene vietata la possibilità alle coppie invece che hanno problemi di sterilità. E' qui la differenza. E' qui che dobbiamo sottolineare la differenza tra cosa vuol dire mettere delle norme a un argomento così delicato e invece quello del divieto, che è inaccettabile. Oggi noi dobbiamo garantire a tutti la scelta. Allora, chi sceglie di avere dei figli attraverso l'adozione lo può fare. Chi sceglie di invece volere, perché il non poterlo fare diventa una castrazione, diventa una sofferenza personale che poi porta a delle altri problemi, questi oggi devono avere la possibilità di farlo. Votando sì al quarto referendum, o meglio al quarto quesito referendario, quello legato alla procreazione eterologa, noi diamo la possibilità a centinaia e migliaia di coppie in Italia di avere la felicità di avere un figlio. Ecco, chi invece è contrario, io dico dovrebbe fare un attimo i conti con la propria coscienza, chi gli ha dato questo diritto di decidere sulla felicità degli altri. Ecco, questo è, torniamo un attimo alle coppie, se interrompetemi se per caso, torniamo ad esempio a elencare quali sono le coppie che chiedevano la fecondazione assistita e che oggi sono costrette a rinunciarvi o andare in un paese estero, un paese dove questo è permesso. Sono allora, dicevo prima, le coppie in cui uno dei partner è sterile, le coppie portatrici di malattie genetiche, entriamo anche qui in un altro quesito referendario, ecco, le coppie portatrici di malattie genetiche sono coppie che scelgono di non continuare nella loro, diciamo, attraverso i figli di non trasmettere una malattia che loro in qualche modo si sono ereditata dai genitori. Allora, la scienza prima non lo poteva fare, oggi ce lo permette, ci dà la possibilità di scegliere dei figli sani. Allora, qui subentra un argomento che viene utilizzato da chi non condivide questo. E l'argomento è quello di dire ma si fa eugenetica facendo l'analisi preimpianto, cioè facendo la scelta dell'embrione sano. Eugenetica è un termine che vuol dire selezione. Allora, lo dicevo prima, lo ripeto, può fare analisi preimpianto solo ed esclusivamente le coppie, prima della legge e anche dopo che avremo votato sì e daremo la possibilità di farlo in Italia, tutte quelle coppie che hanno problemi di malattie ereditarie, malattie genetiche. Allora, ad esempio, faccio un esempio per capirci meglio, due genitori, una coppia dove tutti e due hanno ad esempio, si accorgono di avere la talassemia, in questo caso l'80% dei casi avranno dei figli talassemici con una aspettativa di vita brevissima, con una serie di problemi enormi e con una grave sofferenza quando poi perdi un figlio a 18 anni. Bene, oggi questi, prima della legge meglio, questi genitori, questa coppia aveva la possibilità di fare, attraverso la fecondazione medicalmente assistita, aveva la possibilità di interrompere questa catena, cioè di trovare l'embrione sano e di procreare figli sani. Allora qualcuno ci dice, ma voi siete contro i bambini che non sono del tutto sani? No, no, momento. Una coppia può scegliere, una coppia, eticamente. Io sono per la libertà di scelta e la libertà di scelta è anche quella che una coppia può decidere di non fare nessuna analisi preimpianto. Io dico però che una persona, o meglio una coppia, che invece vuole fare l'analisi per evitare questa, e per rompere questa catena che porta sofferenza e dolore, lo possa fare. Ed è per questo che io voto sì. Poi, non so se io, nelle condizioni che fossi così tranquilla nel scegliere se prendere l'ovulo sano o meno, non voglio entrare neanche nel merito di questo. È una libertà, è una questione di libertà. Non è nello stato che ti dice che tu non puoi impiantarti l'ovulo che non è stato selezionato. Quella è eogenetica, se nello stato ti dice che ti impone, non lo puoi fare per lecce, ma se tu come coppia scegli, puoi anche farlo. Allora, anche qui chiariamo. L'eogenetica è una materia ampia, difficile da comprendere, però quello che voglio sottolineare è che attraverso l'analisi preimpianto non si scelgono gli occhi celesti, il sesso e i capelli neri. Chiaro? Non si scelgono questi, non si scelgono queste caratteristiche del futuro individuo. Si fa la scelta solo ed esclusivamente se quella cellula, o meglio, se quell'embrione è sano o malato e si mira prevalentemente al problema relativo alla coppia. Perché l'analisi preimpianto si fa il terzo giorno, il terzo giorno ci sono otto cellule, viene prelevata una cellula e su quella cellula si può fare solo poche cose, cioè quello di individuare la malattia o se sono sane. Ecco, questo è bene che lo sottolineiamo, perché poi ti accusano di eogenetica, ti accusano di cose che sono fuori assolutamente dalle attuali regole, ma c'erano anche prima. Ho nominato il codice deontologico medico che stabiliva chiaramente che è vietato fare questo, cioè che è vietato selezionare gli occhi celesti, i capelli neri o il sesso. Non si può fare e non lo si può fare non perché c'è la legge 40 che lo vieta, ma è legato a un argomento etico che deve essere affrontato con serenità, non con i divieti che vanno invece dal punto di vista delle malattie a creare sofferenza e dolore delle persone. Allora, dicevo e concludo con l'ultima tipologia di coppia che non può più fare la fecondazione assistita in Italia. Sono le coppie con un partner sieropositivo, anche qui, capiamoci, sieropositivo non vuol dire assolutamente che abbia solo l'ADS. tutte quelle coppie, ad esempio, che hanno un portatore di epatite C, che devono proteggersi per non infettare il compagno o la compagna. Queste coppie, oggi, attraverso la fecondazione medicalmente assistita, potevano garantire la salute del proprio compagno o della propria compagna e comunque avere la possibilità di avere dei figli sani, senza il pericolo di infettarli. Oggi questo è negato e ritengo che anche questa è una cosa crudele, tra le tante che ne abbiamo enunciate. Ma tu lo sai che dietro la storia c'è Dio e dietro la malattia e la guarigione c'è Dio. E come ti permetti tu a violare quella che è la volontà di Dio? Giustamente, ha ragione la legge, bisogna impedire alle persone di violare la volontà di Dio. Vabbè, io adesso rispetto e... No, no, sto prendendo un po' in giro quello che è la visione cattolica. Sì, sì, però ecco, io ritengo che, adesso non so, io rispetto qualsiasi credo e qualsiasi idea da questo punto di vista. Vorrei rimanere su questo argomento perché vorrei proprio che non ci fossero degli equivoci perché altrimenti, sì, insomma, si fa presto poi ad equivocare sulle cose. Noi riteniamo che chi ha un credo, chi crede in Dio e chi deve fare benissimo i conti con la propria coscienza e proprio in questi referendum, sapendo che la generosità e il rispetto della persona sono fondamentali, sono state fondamentali e l'amore verso gli altri è fondamentale, un elemento fondamentale nella religione cristiana, insomma. Io penso che proprio questi dovrebbero fare i conti con la propria coscienza nel dire no. Dovrebbero dire sì se devono essere rispettosi della proprio credere. Perché con il sì, diciamo sì alla vita, diciamo sì all'amore, diciamo sì ad avere, a raggiungere la felicità, diciamo sì che a molte coppie che vogliono questo. Pertanto, insomma, teniamoci un po' su di là. Vogliamo vincerlo noi. Il problema è questo, effettivamente ci sono molti cristiani e anche nel cristianesimo c'è una forza che spinge verso l'ascoltare quelle che sono le tensioni, i bisogni che sono dentro l'uomo e che dopo si riversano nel sistema sociale. Dall'altro lato ci sono delle forze di coercizione, delle forze di assoggettamento che nella società arrivano verso l'uomo e hanno una direzione, hanno un'impostazione ben precisa. Noi abbiamo sempre visto, anche in tutte le trasmissioni della storia, dove la tensione di libertà dell'uomo, anche l'uomo cristiano sentiva, proprio l'uomo anche educato cristianamente, sentiva la necessità di uscire dal dogma e dalla coercizione. E in effetti anche in questo momento, anche con questa legge, anche con queste imposizioni così abiette, diciamo così schiaffate in faccia, c'è questa necessità, c'è questo bisogno. Comunque fa parte della vita. Io voglio ricordare un dato particolare, io ho letto una trasmissione di questo argomento, le direttive che un Papa dava nel 1957 ai ginecologi cattolici, in cui diceva di non utilizzare gli antidolorifici in fase del parto perché un cattolico deve far soffrire la donna. Questo lo diceva un Papa, non secoli fa. Io sono nato nel 1957, tanto per dare un'idea. E di conseguenza, sai, uno che ti dice, no, la donna va fatta soffrire durante il parto, se il parto è doloroso e deve usare l'antidolorifico con cautela, sinceramente, il dolore delle persone è sempre il dolore delle persone e penso che se uno può fare qualcosa per alleviare un minimo di dolore, fa una grande cosa. Di conseguenza questa è la nostra visione. Quando vuoi diamo via i telefonati. Ma ci sono? Forse sì, forse no. Adesso l'abbiamo staccato i telefoni. Abbiamo staccato i telefoni perché... Ditemi voi, io anche... Siete l'ospite che decidi. Ah, va bene? Sì, perché la trasmissione è a tua disposizione, al di là delle mie battute, diciamo così, sono battute che fanno parte della trasmissione di stragonaria e di magia che ormai tiriamo avanti da dieci anni, per cui i nostri radioascoltatori conoscono perfettamente quello che sono le nostre posizioni. E sono posizioni molto dure rispetto al cristianesimo, ma non il cristianesimo come sentimento rispetto alle persone, ma come ideologia, cioè come dogmi, come dettato. E là non abbiamo mediazioni, neanche nel linguaggio, veramente. Allora, dovete telefonare 049-600-600 e 049-6838. Avete sentito nelle trasmissioni che sono arrivati gli ospiti del comitato, abbiamo sentito quattro modi diversi di presentare la questione referendaria, che fa parte delle quattro personalità, diciamo così, delle persone che sono venute. Pertanto, se qualcuno... Pronto? Ciao, bello! Ciao, ciao Iva! Sento una battuta, ha sento battere, no, Marteo? Sì, sì, sì! Spero che stiano costruendo un'auto da te per... No, 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 stanno semplicemente sistemando i nostri bagni! No, no, non ti preoccupare, noi non abbiamo di questi problemi, lo sai. Va bene. Dando un saluto all'ospite e tutti quanti. Grazie. Va bene. Continuiamo così. Ok. Ciao Iva, ciao, ciao. Aveva paura che... No, no, beh, ma ormai è notorio, insomma, anche nelle varie trasmissioni, no. Il problema che noi ci poniamo è un altro, cioè questa legge sta cercando di dare delle specie di diritti a non persone, cioè praticamente al concepito che non ha diritti sociali, che non sono diritti di ordine etico, di ordine sociale, e il problema è che nel fare questa operazione ci si dimentica che si tolgono i diritti alle persone fisiche, è questo che è micidiale, cioè è veramente pericoloso. Noi come pagani riconosciamo la vita e l'intelligenza in ogni seme, cos'è? Non mangiamo più fagioli perché in ogni seme può dare la vita, può dare l'intelligenza, cioè esistono tutta una serie di contraddizioni anche dal punto di vista religioso che è una cosa abbastanza spaventosa, cioè non è, non so, tipo... non masturbarsi perché altrimenti lo sperma che potrebbe dar vita andrebbe disperso. Cioè noi siamo qui a livelli veramente... Pronto? Pronto? Ciao. Ciao, volevo fare una domanda in radio. Eh, dimmi. Ascolta. Pronto? Pronto? Eh sì, andavi a voce. Questa qua è caduta una linea. No, comunque esistono delle contraddizioni rispetto alle cose che sono veramente spaventose. Dal mio punto di vista, naturalmente, dopo il mio punto di vista, dal mio punto di vista, dal punto di vista della stragonaria naturalmente non è dal punto di vista del comitato per il referendum. Noi puntiamo molto nel rispetto di tutto il sentire delle persone, noi pensiamo che sia una questione di libertà di scelta e di rispetto delle persone. C'è da sottolineare anche il pericolo gravissimo che c'è in questa legge di tornare ai tempi in cui si considerava che la donna fosse solo ed esclusivamente un contenitore e non un soggetto che ha una testa, che pensa. E purtroppo dentro al fatto che è costretta all'impianto che non può decidere quanti embrioni impiantare, nel senso che la legge stabilisce tre, a prescindere dall'età, a prescindere dalle condizioni, a prescindere da qualsiasi cosa. Prima c'era la discrezionalità del medico che in base allo stato di salute della donna, in base all'età, perché l'età determina un concentramento più o meno di ormoni, pertanto c'era una serie di condizioni ben definite per cui era la discrezionalità del medico che decideva se impiantarne uno, se impiantarne due, quasi sempre ne impiantavano due e da lì si aveva poi la certezza. Oggi l'obbligo di impiantarne terre è pericolosissimo perché nelle donne giovani questo può portare a parti trigemellari, sapendo che i parti trigemellari hanno di fatto un problema per la donna, perché gravidanze di questo genere creano grandissimi e tantissimi disturbi pericolosi per la vita della donna e problemi per il nascituro, che quasi sempre su parti trigemellari ci sono parti anticipati, prematuri, con tutte le conseguenze che hanno i bambini con nascite premature, legate a difficoltà poi anche a situazioni che portano sofferenze e portano dolore anche per il nascituro. E la non possibilità poi del congelamento degli embrioni che non vengono utilizzati è un'altra delle cose inaccettabili, nel senso che prima quando si faceva la stimolazione ovarica si aveva la possibilità di fecondare tutti gli ovuli che venivano prodotti in questa stimolazione e dopo questi venivano utilizzati subito quelli che servivano, gli altri venivano congelati e successivamente se la prima volta non c'era il successo della fecondazione si tentavano con gli altri embrioni fecondati. Oggi invece da un numero consistente di ovuli si scelgono tre, possono essere malati, possono essere poco propensi alla fecondazione o meglio ovuli che non sono facilmente fecondabili, si buttano via tutti gli altri e si toglie la possibilità perché noi dobbiamo sapere sempre una cosa che il nostro corredo genetico ce l'abbiamo dalla nascita e non è inesauribile, in modo particolare e molto spesso con più stimolazioni si rischia di arrivare alla menopausa anticipata pertanto con tutta una serie di considerazioni che questo vuol dire. Ecco, si spreca la possibilità di dare la vita ad altre persone con facilità e con normandola per legge. Infatti io mi ricordo le cose che parlamentari, le poche donne presenti in Parlamento rimanevano allibite, stupite, meravigliate dalla mancanza di conoscenza del corpo femminile che avevano i parlamentari che aiutavano, cioè come fosse la stimolazione appunto tramite, fatta per ottenere gli ovociti, fosse così semplice, fosse una sciocchezza, cioè la stimolazione appunto fatta tramite ormoni e basta ricordare che nelle commissioni di bioetica ci fu un ginecologo che si dimise e dice io non posso in questa legge violentare i miei pazienti, cioè proprio per dare la dimensione sia dell'ignoranza della classe politica e sia del volere sovrapporre una visione ideologica, etica, morale all'interesse delle persone e alla vita delle persone. E' vero, questo è vero ed è un argomento molto discusso. Ecco, è la prima legge che mette in secondo piano la scelta, l'autodeterminazione. Infatti il terzo quesito referendario parla proprio che chiediamo l'abrogazione di quella parte della legge dove vieta l'autodeterminazione della donna. Siamo tornati veramente al medioevo dove il corpo della donna può essere violentato, anche in questo caso, senza chiedere cosa ne pensa, se è d'accordo o non d'accordo, senza pensare che lei invece è una persona e questo è estremamente grave. Questo sembrerebbe un primo tentativo per dare l'assalto alla legge sull'aborto. Il collegamento è facile da fare. Se voi pensate che solo gli ovuli non possono essere fecondati, e stiamo parlando che in tre giorni, il primo giorno abbiamo due cellule dopo la fecondazione, l'embrione, il secondo giorno quattro e il terzo giorno otto, e c'è tutta questa, no? Diritto dell'embrione, con l'otto cellule si chiede i diritti dell'embrione. Voi pensate un attimo cosa vuol dire, insomma, dopo... Anche qui ci sono delle contraddizioni comunque nella legge, perché non ammette per diritto dell'embrione, non delitto della donna, per diritto dell'embrione, non ammette l'analisi preimpianto, però poi se il nascituro è malformato, ha problemi, può ricorrere all'aborto terapeutico con la grandissima sofferenza. E qui non c'è solo la non conoscenza del corpo, che può essere nella prima fase, ma c'è la poca conoscenza anche di quanto difficile sia per una donna decidere di, psicologicamente, per una donna decidere di non portare avanti una gravidanza. Ce lo dicevano col referendum dell'aborto, no? Sembrava che tutte le donne dovessero andare ad abortire il giorno dopo, senza avere assolutamente la percezione che questa è comunque una sofferenza. E se alcune donne lo fanno, lo fanno per scelte sofferte e che vanno rispettate. La legge sull'aborto poi ha dimostrato che gli aborti sono crollati in Italia, c'è il numero da due milioni di aborti clandestini che eravamo, siamo arrivati a una cifra irrisolta. Quindi donne morte per aborto clandestino sono decisamente scoperte. Siamo fai a quello che succedeva prima, altrimenti il verduraio che vendeva prezzemolo si era messo a piangere, faceva propaganda perché non voleva la legge sull'aborto. Perché arriviamo a quei livelli... No, ma io c'avevo un po' di roba, perché ho detto sicuramente, probabilmente, la rappresentante del comitato poteva non venire. Ma io avevo un po' di ritagli su varie stragi avvenute nel corso della storia in cui le persone sono bestiame da mandare al macello. E quando le persone vengono considerate bestiame da mandare al macello, tipo crociate, tipo indio, sì, c'è un po' di roba, un po' di segnalibri, insomma. Chiaramente si dà il diritto, invece, a un non nato, cioè a un non persona civile, cioè a un non persona fisica, chiaramente c'è l'idea di poter macellare gli altri. Ed è questo che fa veramente orrore, fa veramente schifo. Io parlo sempre da apprendista stregone, da pagano, per cui vedo le cose della vita in trasformazione. In questo senso, rimanendo sull'argomento, se prendersi la Repubblica di domenica 8 maggio, c'è l'intervento di una donna, con una lettera firmata, in cui dice io ho ricorso appunto alla fecalazione assistita, dice guardando mio figlio e so perché votare sì. E questa è una lettera di una testimonianza diretta appunto di una donna che ha ricorso questo, c'è la domenica 8 maggio della Repubblica, la Repubblica delle Lettere. Ecco, noi abbiamo avuto diverse testimonianze su questo tema, con la raccolta delle firme. persone anziane che si avvicinavano per firmare dicendo io sono felice di essere nonna perché per fortuna c'è mia figlia, ha potuto avere un figlio attraverso la fecondazione medicalmente assistita. Ne abbiamo ricevute veramente tantissime di queste testimonianze che ci hanno commosso anche in molti momenti e che dimostrano che c'è un fenomeno non così lontano da noi. Poi noi in questo periodo, nelle nostre iniziative che faremo nei quartieri, nelle città, nei paesi, in tutta la provincia, abbiamo pensato che nella testimonianza diretta ci sia il senso vero della vita e abbiamo con noi, che ci danno una mano splendida e molto intensa, l'associazione Cerco un Bimbo e noi associamo di solito una specialista, per modo di dire un ginecologo, un biologo che spiegano gli aspetti tecnici per conoscere la nostra ginecologa e ci sono anche altri ginecologhi che ci aiutano in questa campagna referendaria e ci raccontano, associamo il tecnico con il politico per spiegare e l'esperienza diretta di queste donne e di questi uomini che fanno parte di coppie che stanno tentando di avere dei figli attraverso la fecondazione medicalmente assistita. Le loro testimonianze fanno riflettere, fanno riflettere molto e penso che questa sia una delle cose importanti, insomma, che dovremmo parlare al cuore della gente perché solo così riusciamo a far passare questa iniziativa. Ricordiamo una cosa, che la fecondazione assiste non è un obbligo di legge, ci ricorre chi vuole, cioè nel senso se esiste non è un vincolo dello Stato, non è una dichiarazione di redditi. Non credo che ci sia una donna che gli piace essere tagliata, penetrata, spaccata, addormentata. Di conseguenza, anche se esistesse questa facoltà di libertà di fecondazione assistita, non è certo obbligatorio, uno che vuole fare altre scelte le può fare. L'importante è che chi vuole ricorrere a questo possa farlo, cioè, è sempre una scelta individuale. Non è una dichiarazione di redditi che al giorno deve presentare il motore o fare diversamente le tasse. E' come per l'aborto, non è che tu sei costretto ad abortire, tu puoi se vuoi. Sì, ma quando parlavo che è una scelta di libertà, facevo riferimento a questo. Oggi non siamo liberi. Le coppie che sono in queste condizioni, se vogliono realizzare un loro sogno, devono andare all'estero. E invece quello che noi chiediamo è che sono cittadini, hanno diritto di cittadinanza nel nostro paese e noi dobbiamo tutti permettere che queste persone possano realizzare i loro sogni qui, da noi. In una struttura pubblica dove non debbano sborsare troppi soldi, perché questo è il problema poi. Anche qui c'è una selezione poi e un'ingiustizia non da poco conto. Se pensiamo che chi ha economicamente delle possibilità può decidere di andare all'estero. E siccome non ci va una volta solo, ma ci devono andare più di una volta, chi se lo può permettere lo può ancora fare. Chi invece ha problemi economici o comunque, noi sappiamo che non è un problema di poco conto visto i tempi che stiamo vivendo, questi devono rinunciare. Questa è un'ingiustizia, anche questa non di poco conto. sono i principi, cioè i giuridici che entrano. A me è appunto dato da pensare il fatto che un grande avvocato italiano ha detto che andrò a votare sì e voterò sì anche e soprattutto sulla fondazione etorologa. Non tanto perché mi interessa, perché di questo passo si arriverà a proibire l'adulterio. Questa può essere una battuta di un avvocato, leggo la dichiarazione di un ministro, dice anche io voterò sì perché di questo passo si andrà a punire l'adulterio. Il problema è che quando c'è questa norma, questa norma verrà applicata, sicuramente se non verrà applicata tipo l'impianto obbligatorio perché un medico è coscienzioso, si andranno a mettere delle pene. Ma le pene andranno sia per il medico che non applicherà la legge, ma sia per la donna che non subisce la violenza. E che pene andremo a mettere a delle persone che non hanno commesso dei reati e che hanno tutelato la loro salute. Questo è proprio il clima dell'inquisizione, è la prospettiva che abbiamo avanti, l'orizzonte che si annuncia, che è veramente terrificante e spaventoso. Va bene, come concludiamo allora questo? Ecco, io concluderei in questo modo, invitando ad andare a votare, prima di tutto, sapendo che questa è una scelta di civiltà ed è una scelta che è importante di democrazia, è un esercizio importante di democrazia, specialmente su argomenti così importanti, così delicati. Io chiedo a chi ci ascolta di votare sì al primo quesito referendario, quello che tratta la libertà di ricerca scientifica, consentiremo così la ricerca sulle cellule staminali preimpianto e diremo sì alla possibilità di nuove cure per molte malattie. Chiedo di andare a votare sì al secondo quesito referendario, quello che tratta la salute della donna, cancelleremo le restrizioni sull'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, proteggendo la salute delle molte donne e considerando, consentiremo anche a chi è portatore di malattie genetiche di avere un figlio sano. Chiedo di votare sì al terzo quesito referendario, quello per l'autodeterminazione della donna, cancelleremo la norma che equilibra i diritti del concepito a quelli della madre, tuteleremo il diritto dell'autodeterminazione così della donna e chiedo alla fine di votare sì al quarto quesito referendario, quello che tratta la fecondazione eterologa. Consenteremo la fecondazione eterologa, regaleremo anche alle coppie sterile la gioia di poter avere un figlio. Quello che inizia dunque oggi è una grande battaglia civile e chiediamo a tutti un impegno come lo è stato nel 74 col divorzio e nell'81-82 con l'aborto. Posso fare l'ultima? Sì, vorrei ricordare che domani sera abbiamo ospite alla Sala Paladin presso il comune di Padova, Chiara Valentini, che ha scritto un libro, La fecondazione proibita. Considera questa legge una legge arcaica che riporta innaturalmente il nostro paese agli anni 50 nelle testimonianze e nelle riflessioni del popolo della fecondazione assistita. Alle ore 21 presso la Sala Paladin, Palazzo Moroni, vi aspettiamo per un confronto. sarà presente anche Franca Bimbi del Dipartimento dell'Università di Padova e sociologa della famiglia, nonché deputata della Margherita che si è impegnata in questa campagna referendaria e avremo ospite Chiara Valentini che ci racconterà e approfondirà il tema. Sì, io farò la moderatrice, darò la parola. Ecco, questo è lì Bacchetta. Sono alla Rosanna, appunto, sapete dove trovarla domani sera. Va bene, grazie. Allora, io devo chiudere qui la trasmissione di magia, stragoneria, paganesimo. Naturalmente fino al referendum dedicheremo gli spazi a spiegare cosa è il referendum, per quello che potremmo fare, faremo. Tutti i pagani naturalmente non solo andranno a votare ma faranno votare. Non c'è scelta, non c'è alternativa. O si è con Ratzinger o si è con il paganesimo. O si è fra chi brucia. O si è fra chi brucia le donne o fra chi chiede la libertà. O si è fra chi pensa che il mondo sia vivente o chi pensa invece di metterci in una scatola e di trasformare tutto in bestiame. Ogni ascoltatore può contattare il vicino, l'amico, il conoscente e dire ricordi che il 12-13-1 si vota. Ogni pagana ha una stampante per fare un po' di volantini. Abbiamo già messo i volantini in lista per cui prelevate, fate, brigate. Nessuno non vi viene niente in tasca, non vi verrà niente. Pagherete tutto di tasca vostra per quella più bella battaglia che un pagano, un apprendista stragone possa fare. Una battaglia gratuita. Vi viene addosso soltanto io l'ho fatto. Dicendo io l'ho fatto, io ci ho provato, è la più grande ricchezza che potete raccogliere. Pertronde se non facciamo queste cose che sono assolutamente gratis, che cosa facciamo? Cose per le quali ci pagano? Bene. Vi ricordo che il giorno sabato 14 maggio, qui in sala di battiti Radio Gamma 5, alle ore 20.30, terrò il dibattito di stregoneria e lo scetticismo sul crocello dello stragone. E dopo naturalmente andremo tutti a mangiarsi la pizza, chi vuole. E invece il sabato 18 giugno 2005, presso il Bosco Sacro di Jesolo, forse metteremo anche la prima statua, la nicchia di Samotraccia sull'altare, e niente, terremo il rito del sostizio d'estate. Ho detto giusto stavolta? Sì, sì. Allora, se qualcuno arriva un po' prima a aiutarmi a portare la legna, naturalmente mi fa piacere, se no, come tutti gli anni, arriverò presto e mi sombarcherò. Ricordate che dopo facciamo il picnic, per cui mangiamo in campo, mangiamo all'aperto. Naturalmente saremo mangiati dai zanzari, visto che c'è sempre un dare a avere. Bene. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ringraziamo il tuo invitato. E niente, noi continueremo anche se da domani, come scatola par condizio. Grazie mille. Tutto a posto? Tutto a posto. Tutto a posto, nessuno mi uccide. Allora sono felice oggi. Grazie mille.